E' un ragazzo con la testa sulle spalle. Lo facciamo per il tuo bene, perché tu abbia un futuro radioso. Era evidente che ero uno straniero, come tanti altri. Ero vincolato a fare ciò che i miei genitori, i miei parenti, tutti, si aspettavano che io facessi. Rispettare le loro regole. E guardava come incantato, immerso ed isolato dal mondo che lo circondava. E io mi ero stufato di spiegare a chiunque che io ero, che sono, persiano, e che non so parlare arabo, e che il fatto di essere nati musulmani non significa essere simpatizzati dei terroristi. Da come mi aveva guardato, ho capito che era interessato solo a me e non all'abito che indossava. Tu e me andiamo, in the trees, in the rins... Era l'incarnazione perfetta della mia visione d'amore e di bellezza! Io sono sempre perfetta! Non mi becchierai! Io sono sempre bella! Finalmente, a casa! Bentornato in Iran! A casa tua, dalla tua famiglia! Da me! Tu lo sai! Quello che io ho passato qui in questi sei anni ad aspettare, mentre tu eri a fare la bella vita e mi vieni a dire che non intendi più sposarmi! Mi vieni a stare! Da te! 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 Da! Da te! Da te! Da te! Da te! Da! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501